E ciao ragazzi qui è Sabit e benvenuti in questo appuntamento delle richieste di Xenoverse 2 Quest'oggi faremo una richiesta molto carina ovvero Goku Ultra Estinto Incompleto Contro Vegeta Super Saiyan Blue Evoluto Allora non mi ricordo molto di Dragon Ball Super che cazzo fai Goku Non mi ricordo nulla e a quanto pare Però dobbiamo essere un po' più... No! Oh perfetto Fa il tempo che si ricarica Allora come voi ben sapete dato che si chiama Vegeta Super Saiyan Blue Evoluto Che non mi ricordo che se era uno stadio evolutivo Come anche l'Ultra Estinto perché non è una trasformazione vera e propria Ma è uno stadio evolutivo ricordatevelo questo Ah perfetto Mi dispiace per te caro Vegeta Hai perso Hai perso con dignità mi dispiace Vai vai col secondo round Col secondo round ragazzi molto bene vai 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 Da notare la... Da notare la... La venatura sulla fronte di Vegeta eh ragazzi Vai... Nooo Devo levare però sto vizio di usare il vigore eh Me lo devo levare Chissà come sarà in Budokai Tenkai C4 Sta cosa del vigore Che mi auguro che non sia rompipalle Se è alla pare di Budokai Tenkai C3 Ci può stare Perché mi ricordo che c'aveva una Una sessione molto lunga Dai Vieni qua No 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 Ehi dai Sto cazzo di vegeta Vai Ragazzi anche se uso Oltre il limite contro il bot Non rompetemi il cazzo scrivendomi Usare a che da bambini Per cortesia Lampo finale pure addosso Vedi dimori un attimo Dai Oh perfetto Che non si avviava il pugno Finiamo in bellezza Molto bene ragazzi Il video lo posso pure chiudere qua Non accetto altre vostre richieste per ora Quindi vi invito a lasciarmi un bel mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Qua da Subbit è tutto E noi ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti